Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Pipilì a causa di un incidente avvenuto tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, ci sono 10 chilometri di coda in direzione Firenze. Sulla Siena Bettolle per lavori, chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta e San Casciano. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano con chiusura dello svincolo di Monte Pescali in direzione Livorno. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di asfaltatura in Lungarno dei Pioppi. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!